Le compagnie in programma sono 18, 23 invece gli spettacoli che dal 12 giugno e fino all'11 dicembre 2021 tracceranno di palcoscenico in palcoscenico il percorso pensato per la terza edizione della rassegna di danza Incontri per la direzione artistica di Antonella Iannone. Se Salerno con l'Arena Ghirelli, il Teatro dei Barbuti, la Sala Pasolini e l'Auditorium del Centro Sociale in quest'anno ospiterà gran parte degli spettacoli in cartellone, Gioi Cilento e Vallo della Lucania completeranno di fatto quello che è stato pensato come un vero e proprio viaggio tra i diversi linguaggi dell'arte ed è proprio nel Cilento che la Kermesse prenderà vita. Il taglio del nastro infatti ci sarà il 12 giugno alle 20 nella suggestiva cornice del convento di San Francesco a Gioi. Ad inaugurare la rassegna sarà l'Arb Dance Company con le Città Invisibili, coreografia di Roberta De Rosa che prende spunto da un testo di Italo Calvino. A seguire la compagnia dei Già Donnè con Ravella e Stratto. Gli spettacoli replicheranno il giorno successivo, 13 giugno. Le due esibizioni previste per Vallo della Lucania si terranno il 26 novembre nel Teatro Leo de Berardinis. Si inizierà alle 10 e 30 con a Board Line Dance che porterà in scena Body Moots Kids, coreografia di Claudio Malangone. I quattro personaggi con i loro umori prevalenti affronteranno un viaggio per scoprire come superare le difficoltà quando esse si presentano. Mentre in serata, a partire dalle 21, salirà sul palco la compagnia La Dance con Show Up, uno spettacolo che fa memoria della Shoah attraverso i ricordi dei figli e dei nipoti dei sopravvissuti all'Olocausto. Tutte le altre esibizioni in calendario per la Kermessi incontri si terranno a Salerno. L'auspicio è che l'emergenza Covid non torni a bloccare gli spettacoli. Grazie.